Allora Matteo, una prestazione più che sufficiente la tua con dei grandi interventi, ma non è bastato per portarvi a punti da Camporosso? Certo, ci abbiamo provato, ci siamo allenati tutta settimana per cercare di portare il risultato a casa. Non è bastato la mia parata, però ci abbiamo provato fino a fine. Ci hanno salvato un gol, dubbio, non so se era dentro o fuori, però l'arbitro ha visto così. Speravamo di portare a casa il risultato, però pazienza. Continuiamo a lavorare e vedremo come andrà il campionato. Quali sono i vostri obiettivi per quest'anno? In primis fare bene, unirci, lavorare ogni giorno, cercare di salvarsi in primis, poi se arrivano i risultati ben venga, sperando di salvarci tranquillamente, senza dover andare a lottare fino all'ultima giornata.